Gli incassi da multe volano nei primi dieci mesi del 2018 raggiungendo nel comune di Viareggio la ragguardevole cifra di 2 milioni e 310 mila euro. Nel 2017 l'incasso nei 12 mesi fu di 1 milione e 742 mila. Le tabelle del cervellone comunale che monitora incassi e pagamenti dell'amministrazione viareggina traducono in cifra le sensazioni quotidiane di tanti automobilisti e motociclisti alle prese con l'autovelox, divieto di sosta e altre infrazioni al codice della strada. Rispetto al 2017 l'importo delle sanzioni amministrative è aumentato di ben 568 mila euro e mancano ancora due mesi alla fine del 2018. Dunque tolleranza zero o quasi dai divieti di sosta agli eccessi di velocità sono in netto aumento i verbali le conseguenti sanzioni emessi dagli agenti della polizia municipale che ogni giorno pattugliano le strade di Viareggio. Sono dati incoraggianti quelli che arrivano dal comando, spiega l'assessore Maurizio Manzo. Questo purtroppo lo dico perché vuol dire che c'è un po' di indisciplina che dovrebbe essere regolata dai Viareggini e dai turisti. Questo fa a fronte anche di un calo del personale della polizia municipale. C'è da dire che c'è anche un incremento anche della riscossione di queste sanzioni. Scendendo nel dettaglio per i divieti di sosta si passa da 36.000 del 2017 a 47.000 del 2018. Sempre in tema di sosta le multe per lo spazzamento sono passate da 3.720 nel 2017 a 7.036 nel 2018. 1.382 sono gli eccessi di velocità nel 2018 contro i 764 dell'anno passato. Parliamo in questa sede solo delle sanzioni amministrative, aggiunge Maurizio Manzo, ma la municipale coordinata dalla comandante Iva Pagni sta facendo un ottimo lavoro anche sul fronte del penale, dai sequestri al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.